Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli. Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli. Un tempo, un tempo Roma, che la sapeva lunga, decise di occupare la terra d'Alba Longa, per non sacrificare preziosi vite umane, si chiedero in battaglia le sei migliori lame. Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli. A giro, giro, quadro, sei fratelli in mezzo a un prato, con la spada e con lo scudo, con i denti e con la rete, con le frecce e con la lancia, si bucavano la pancia. Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli. Poi si sa che la sorella, sorella degli Orazzi, amava, amava tanto. Uno dei tre Gugliazzi e i Gugliazzi rimproverò il fratello, rimasto sulla terra. E questi, cosa fece? Uccise pure quella. Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli. Sempre giro, giro, quadro, sei fratelli in mezzo a un prato, con la spada e con lo scudo, con i denti e con le rete, con le frecce e con la lancia, si bucavano la pancia. Gli Orazzi e i Gugliazzi erano sei fratelli.